Le celebrazioni per la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate si sono aperte a Napoli con la deposizione delle corone di alloro in onore dei caduti al mausoleo di Posillipo, presenti con il sindaco Luigi De Magistris, il prefetto Gerarda Pantalone ed i rappresentanti delle massime autorità civili e militari. A seguire nella suggestiva cornice di Piazza Plebiscito la cerimonia dell'Alza Bandiera e la lettura dinanzi ai reparti schierati del messaggio del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa. Un messaggio molto bello che dà un grande riconoscimento alle donne e agli uomini di tutte le forze armate che operano con grande competenza, professionalità e passione nei momenti difficili anche non in tempi di guerra come purtroppo sta accadendo in questi giorni nel centro Italia. Ancora una volta la parte migliore del Paese sta dimostrando grande solidarietà e grande vicinanza alle comunità così duramente colpite. E poi ho sempre pensato che le forze armate devono essere parte integrante della sovranità popolare quindi non sono un corpo staccato dal popolo. C'è un giuramento appunto alla Costituzione, alle istituzioni repubblicane di cui le forze armate fanno parte e che spesso vengono chiamate a compiti molto molto difficili quindi oggi è il giorno della gratitudine e del ricordo della Costituzione attraverso l'Italia una è indivisibile pur nella valorizzazione delle sue autonomie e delle sue differenze. Senza memoria non vi è storia, non vi è presente e non vi è futuro e quindi è molto importante. Tra l'altro oggi noi che cosa omaggiamo, che cosa ricordiamo? La nostra bellissima unità d'Italia raggiunta, a che prezzo, ma che è stata raggiunta e che quindi è un bene inestimabile che dobbiamo conservare. Insieme, e questo è molto bello, rendiamo omaggio e onore alle forze armate. La mattinata si è conclusa con la consegna delle medaglie d'onore alla memoria ai familiari di quattro ex internati nei lager nazisti e di una bandiera tricolore ai ragazzi dell'Istituto Comprensivo Salvo d'Acquisto.